Amici sportivi, ho visto la partita della Juventus con l'Atalanta e so cosa volete dire, però vi parlo da allenatore. Cioè, questa Juve a me piace quando gioca. Voi mi direte, però mister, prendono due gol a partita. L'avremo presi con il Frosinone, a Napoli, qui. Sì, però è propositiva ed è giusto che la Juventus giochi così. Il campionato non dice niente, che arrivi tu secondo o terzo. Questa è stata una bellissima partita, un secondo tempo incredibile. Poi andiamo a analizzare se Chiesa riesce a giocare esterno. Milik ha fatto una bella partita. Tanto esponde, ha fatto gol, è uscito. Però dobbiamo anche dire che... E poi parlo dell'Atalanta, perché la punizione, il gol e questo giocatore che ho inquadrato nella Locandina con Maier, se veramente è un acquisto... Ma anche lo stesso Anderson, se uno dei due arrivasse alla Juve al prossimo anno... Perché la Juve manca un uomo in mezzo al campo. Perché l'MTP, secondo me, la partita è stata sì Chiesa, ma onestamente il lavoro che sta facendo McKennie è incredibile. Cioè, questo giocatore qui, McKennie, è cresciuto tantissimo. Era un giocatore che non veniva più considerato da nessuno. È veramente a livelli altissimi. Cioè, è un giocatore dappertutto. Cioè, Henderson e McKennie sembrano che non ci sono in campo, ma ci sono e come rubano un sacco di palloni con McKennie che ha fatto due assist. Ma, apriamo un'altra parentesi. Questa Juve, il secondo tempo... Il primo tempo è stato piatto, ma è normale. Cioè, non puoi pensare che 90 minuti di pressing, pressing, pressing... Dal momento in cui c'è stata la bellissima punizione, questa della Juve era messa in campo al primo tempo. Il problema è che giocava... Ha giocato, ha provato dei tiri, però erano... Era troppo lineare. Non c'era le... Anche perché l'Atalanta, comunque, nel suo che, era ben messa in campo. E l'Atalanta veniva da una partita incredibile a Lisbona. Quindi, avrei giurato che la Juventus nel secondo tempo sarebbe cresciuta. E soprattutto, dal momento in cui Chiesa gioca veramente largo, e soprattutto in Junior, con lui, ho visto che c'è un'intesa molto, molto importante. Aggiungerei che Niccolò Scraviglia, un giocatore che è entrato, diciamo, a metà del secondo tempo, ha dato tanta qualità. È un giocatore che mi piace, riesce a fare delle giocate. Cioè, è giovane, ma è un ragazzo su cui puntare. Il ramarico mio rimane che Ildis non sia entrato prima. Sono contento che è entrato Ken e l'ha fatto capire. Però io, onestamente, Ildis, l'avrei messo già all'inizio del secondo tempo. Perché ti avrebbe... Ho capito che rischiava, perché comunque aveva troppi giocatori offensivi. Però, voglio dire, tenere anche quattro difensori in linea, i gol le hai presi. Perché il gol su Koppmeiner è un errore grave di tutta la difesa. Perché non dei difensori, dei centrocampisti. Perché Koppmeiner va marcato uomo sulle punizioni. È vero che lo schema è molto bello. Bello lo schema. Lo schema è stato veramente preparato bene. Faccio i complimenti a Gasperini e alla squadra per come... Però il secondo gol, Koppmeiner, è stato troppo lasciato libero. Il gol di Koppmeiner e di Koppmeiner sono molto simili. Però quello di Koppmeiner è stato costruito veramente bene. Tanti tagli e un tiro di punta che ha fregato Carnesechi. Il gol di Koppmeiner è un errore dei centrocampisti che non hanno seguito il giocatore più forte. E soprattutto del portiere. Perché se analizziamo la partita di Napoli e quella di oggi, cioè ha delle colpe incredibili. Perché anche il gol che ha fatto il Giorgiano nella partita con Napoli-Juventus, c'è tanta responsabilità del portiere come oggi. Io non voglio dire che non sia forte, anzi è fortissimo. Però i portieri hanno questo difetto che quando la palla passa vicino le loro gambe o sbagliano a mettere la mano troppo in ritardo o aprono le gambe e la palla passa sotto. Cioè chi ha giocato calcio sa che sono errori. Questo ti fa dire che è un errore del portiere. In realtà è la velocità di esecuzione del giocatore che sembra che sia un errore del portiere. Anche se dal mio punto di vista c'è comunque un errore. Perché la lettura del portiere, soprattutto nella partita di Napoli, lì sì è stato un grosso errore. Ma qui doveva capire del taglio, secondo me doveva uscire e coprire più lo spazio. Detto questo, Chiesa ha giocato benissimo, mi piace, si è caricato. Cioè lo cercavano veramente, non ha avuto un tempo. Ha fatto anche una chiusura in fase difensiva incredibile. Come allo stesso Scamacca che è cresciuto tanto dopo quella bella azione. Ha salvato un'azione incredibile. La Juventus dal decimo minuto al trentesimo, quando ha ribaltato il risultato, ha fatto un massimo sforzo. E questa Juve così mi piace, mi piace. Quindi quello che io voglio dire è, lasciamo stare per un attimo il fatto che può piacere o no la natura. Ma questa è la strada giusta. Cioè io vedere una Juventus che mi vince 1-0 senza un gioco, dico sì, raggiungi un obiettivo, ma qual è? Adesso l'obiettivo è vincere la Coppa Italia. E per l'Atalanta è cercata di arrivare a quarta o quinta per andare in Champions League. Quindi lasciamo stare da parte le qualità del gioco. È stata una bellissima partita. Il tabù Atalanta resta per la Juventus. Per quanto riguarda l'Atalanta, ripeto, Anderson con Myers, ma anche Pasalic, che si è visto poco, comunque ha sempre cercato di coprire le zone campo. Lo stesso Decateler, sembra che non abbia fatto niente. In realtà tanti giocatori hanno... È stata una partita dove 4-5 giocatori hanno avuto la palla sempre. Da parte la Juventus e da parte l'Atalanta. Ma tutti gli altri si sono mostro. È veramente un elastico... Anche lo stesso Ruggeri, sembra che non abbia fatto niente, ma in realtà ha coscio tantissimo, tantissimo. E vedere queste palle recuperate al centro campo e dare subito profondità. Perché i gol di Cambiasso e il gol di Comayra sono bellissimi. Sono sempre dei tagli che a me piacciono tantissimo, no? Però c'è stata tante azioni. Tante azioni dove Chiesa ha provato il tiro a giro. L'ho provato anche l'Atalanta con Scamacca. C'è stato molto equilibrio, ma con una crescita sostanziale della Juventus, che però ha preso il gol nel momento in cui pensava di aver vinto la partita. Quindi, in conclusione, quello che voglio dire io è che la strada della Juventus per diventare una squadra forte il prossimo anno, con degli acquisti importanti, e con Maniers è uno di questi, è giusta. La strada è quella. Con o senza Allegri è quella. Perché comunque la difesa è stata molto alta fin dall'inizio e questo non mi piace. Qual è il contro di tutta questa situazione qua? È che subisce due gol a partita. E questo è un bel problema che deve risolvere. Però attenzione, anche l'Inter, che sta stramincendo il campionato, che prese poco lo scorso anno, per diventare la squadra che stiamo vedendo adesso, ha subito tanti gol, ve lo ricordate, no? Quindi, voglio dire, è un processo di miglioramento che ci sta. Se tu porti il baricentro, il famoso pullman in fase difensiva, e lo alzi, anche facendo magari un primo tempo più tranquillo, per dopo spingere nel secondo tempo, corri dei rischi. E, onestamente, per come sta giocando la Juve, per come ha giocato la Napoli, e come ha giocato oggi, e trovarsi solo un punto, dico che prima o poi farà un bel filotto. E il filotto di vittoria che farà la Juventus fra un po', perché ci saranno, senz'altro, saranno dettate anche da questo bel gioco. Quindi i tifosi sono contenti. Perché io ho visto come si fa a contestare i giocatori. Hanno dato il massimo. Sia da una parte e dall'altra. Attenzione, perché anche l'Atalanta mi è piaciuto. Perché se tu pensi di come hanno giocato mercoledì, e tenere questo ritmo qua della Juventus, non era per niente facile. Quindi faccio complimenti anche a Gasperini, perché vuol dire che la squadra sta molto, molto bene. In conclusione, dico solamente che la Juve, che adesso è terza, se continua così, è nella strada giusta per fare quel salto che tutti ci si aspettava. E sono contento per Federico Chiesa, perché ha fatto una partita molto, molto bella, molto intensa, ci ha messo la gamba sempre. E dall'altra parte, ripeto, con Miners, mi è piaciuto tanto. Devo dire la verità, mi è piaciuto tanto, anche come difendeva la palla, a parte i due gol. McKennie mi è piaciuto tantissimo. Anderson, un lavoro scuro, ma sempre presente lì. Gli esterni della Juventus ha spinto tanto da cambiarsi. Ecco, diciamo, l'Atalanta ha perso un po' le partite sugli esterni, si è visto di meno, però le due difese, più o meno simili, hanno fatto cose belle e cose meno belle. ed è per quello che la partita è finita due a due. In sostanza, l'unica cosa che vorrei dire per chi ama il calcio, guardate la punizione dell'Atalanta, perché quel schema lì è stato molto, molto bello, mi ha lasciato a bocca aperta anche a me e lo studierò, quello schema lì, per prepararlo anch'io in qualche partita, perché è stato veramente molto, molto interessante. Ci vediamo al prossimo video. bella partita, veramente bello, soprattutto nel secondo tempo. Ciao a tutti!